ad esempio con questo meme della pagina Sesso, Droga e Vitalizio che dice appunto comunista, femminista, anti-berlusconiana, animalista, vegana, raccomandata da Santoro, te la scoperesti lo stesso. Questa cosa, attenzione, attenzione ragazzi perché vi denuncia la polizia postale. Manca quelli che ridono. Allora, in realtà, vorrei capire esattamente che cosa c'è di offensivo qui. Nel senso che alla fine ti stanno dicendo che sei scopabile. A me la prima che me lo dice io la sposo per dire, cioè io non mi offendo. Perché questo meme è offensivo? Non è stato tanto offensivo quello, ma diciamo quella foto è servita per...